Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, io sono Gualtiero e questo è il mio canale, un canale dove parlo di una delle più grandi passioni, ovvero quella per i libri, con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda i miei video, facendo conoscere dei titoli che, secondo me, vale la pena di leggere. Nel caso non l'este ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi qui sotto, lasciare un commento, mettere un mi piace, eccetera, eccetera. Oggi un format che ritorna spesso e volentieri ultimamente sul mio canale, ovviamente sto parlando del book tag, in questo caso un book tag dedicato ai cartoni animati, vi lascerò in descrizione gli account di chi mi ha taggato, di chi ha creato il book tag e a mia volta taggerò un po' di creator che spero parteciperanno a questo bellissimo book tag. Direi di iniziare, ma prima ovviamente, sigla! E partiamo subito con i cartoni animati, alcuni li conosco, di alcuni ho visto anche parecchi episodi, forse il target di riferimento di questi cartoni sono persone un po' più grandi di me, ma in ogni caso sono praticamente tutti i cartoni iconici, per quanto riguarda le sigle, come sempre in Italia le hanno fatte o Cristina D'Avena o Giorgio Vanni, ci sono rarissime eccezioni nel campo delle sigle dei cartoni animati. Partiamo con il primo cartone che è Chi smilicia, un libro con una storia d'amore che finisce bene o che non finisce bene, quindi potremmo interpretarla come una doppia domanda. Allora, non voglio fare troppi spoiler, però come libro con una storia d'amore che finisce bene, non posso fare altro che scegliere uno dei miei preferiti, ovvero Il Maestro Margherita. Non ho ancora fatto un video dedicato a questo capolavoro della letteratura, ma senza troppi spoiler, per certi punti di vista si può dire che la storia d'amore vada a finire bene, arriverà prima o poi un video dedicato solo ed esclusivamente a questo gioiello, per il momento fidatevi di me sulla parola e recuperatelo. Per quanto riguarda invece la storia d'amore che non va a finire bene, ho pensato a Romeo e Giulietta di Shakespeare, immagino che molti di voi sappiano come va a finire, una tragedia, una delle opere forse più famose di Shakespeare che vale sicuramente la pena recuperare. Passiamo poi al secondo cartone, Pollon, un libro che parla di religione, dei, mitologia o credenze popolari, chissà cosa combinava Pollon con quella polverina magica, comunque il libro che ho scelto per questa categoria è Medioevo Superstizioso di Jean-Claude Smith. Ho già fatto un video dedicato a questo libro, ve lo lascio in descrizione insieme agli altri video dedicati ai libri che citerò in questo video. Medioevo Superstizioso, dicevamo, molto molto interessante, parla di fate, di rituali magici, di creature del mondo fantastico e anche di come la Chiesa ha dovuto adattarsi, scendere a patti a volte con le credenze della popolazione più rurale che per svariati motivi che vengono approfonditi in questo libro era ancora legata a tradizioni pagane, quindi se siete interessati all'argomento, ci sono anche delle bellissime illustrazioni, questo può essere decisamente il libro che fa al caso vostro. Terzo cartone, L'Uomo Tigre, un libro con protagonista al male e questo è un libro di cui non ho ancora parlato sul mio canale ma prima o poi arriverà un video e sto parlando di Io uccido di Giorgio Faletti. Titolo del libro che potrebbe anche diventare una profezia perché non so se si senta, spero di no, in sottofondo ma uno di miei vicini ha deciso di iniziare a fare lavori in casa a usare il trapano proprio quando ho iniziato a registrare il video battute a parte è uno dei thriller italiani forse più famosi e ne parlerò, ci farò un video dedicato perché ci sono un po' di cose da dire io non sono un amante dei thriller ma questo l'ho letto molto molto volentieri e vi posso assicurare che il protagonista incarna abbastanza l'essenza del male. Quarto cartone, Occhi di Gatto un libro che è stato un furto per il costo barra perché non ti è piaciuto ormai se avete visto qualche mio video sapete qual è il libro che cito sempre quando si presenta all'occasione sto parlando della vita intima di Nicola Ammaniti non ce l'ho qua perché per fortuna sono riuscito a venderlo anche se ho perso dei soldi ovviamente perché l'ho rivenduto a meno della metà mi sembra che costasse intorno ai 20 euro quindi già per me è stato un furto perché non sono abituato a comprare libri nuovi doppiamente un furto perché non mi è piaciuto ne ho parlato in svariati video se ricordo il titolo di uno ve lo lascio in descrizione perché non ho voglia sempre di stare a spiegare perché non mi è piaciuto nel caso voi l'aveste letto e vi fosse piaciuto vi chiederei di lasciare un commento spiegandomi perché a voi è piaciuto prima di passare al prossimo cartone ci tengo a specificare che non ho trovato tutti i libri che citerò in questo video vi assicuro che c'è parecchio disordine per quanto riguarda i libri sto cercando piano piano di trovare un sistema per metterli in ordine ma non è per niente facile quindi dovrete accontentarvi della copertina qui da qualche parte il quinto cartone è La Pimpa un libro con protagonista un animale qui non posso non citare uno dei capolavori di George Orwell ovviamente sto parlando della Fattoria degli Animali una favola parodia intrisa di satira nei confronti della vicenda dell'Unione Sovietica bellissimo se non l'avete mai letto mi spiace per voi cercate di recuperarlo in qualche modo perché vedrete come in un libro breve così ci può essere veramente una lezione di umorismo letteratura, lessico e tutto quello che volete sesto cartone Lady Oscar un libro con tematiche LGBTQ+, o questioni di genere anche questo non l'ho trovato e mi fa strano perché pensavo di averla portata di mano e ho scelto Le Atenesi del professor Barbero perché è riuscito a dare un taglio ovviamente storico ma a inquadrare molto bene la condizione della donna nell'antica Grecia libro assolutamente consigliato perché fornisce un punto di vista diverso su un pezzo di storia greca settimo cartone I Puffi un libro fantasy che hanno letto tutti tranne te e uno che hai letto solo tu per il libro che hanno letto tutti tranne me a malincuore devo dire I Signori degli Anelli di Tolkien voglio sicuramente leggerlo ma sono un po' spaventato dalla mole e dal fatto che sia scritto ah perché io vorrei leggerlo in originale per dare ancora più dignità dato che Tolkien è uno dei pochi autori che prima ha creato un linguaggio e poi per farlo esprimere al suo massimo potenziale ci ha creato una storia attorno mentre ovviamente la maggior parte degli scrittori fa al contrario quindi sono un po' spaventato ma sicuramente è un libro che prima o poi leggerò anche perché ne ho sempre solo sentito parlare bene mentre per quanto riguarda un libro che solo io ho letto ovviamente non sarò solo io è uscito il video di recente a proposito di questo libro e sto parlando dell'intrepita Tiffany e i piccoli uomini liberi di Terry Pratchett se non conoscete Terry Pratchett e se amate il genere fantasy vi prego recuperate questo libro recuperate questo autore perché è riuscito a dare veramente una ventata d'aria fresca al fantasy unendo una certa comicità una certa... per certi versi è quasi una parodia del genere fantasy ma in realtà è il modo che ha Pratchett per dimostrare quanto ami questo genere quindi se non lo conoscevate fatevi un favore e recuperatevi questo grande autore di fantasy comici ottavo cartone Yattaman un libro con tecnologia o fantascienza che parla di futuro il libro che vi sto per mostrare in un certo senso parla di futuro c'è molta tecnologia ma è molto molto di più e sto parlando di Il mondo nuovo di Aldous Huxley libro pubblicato nel 1932 quindi quasi cento anni fa ma vi assicuro che leggendolo rimarrete stupefatti di quanto ancora sia proiettato nel futuro anche per noi una distopia anzi come l'avevo definita nel video un'utopia negativa perché apparentemente nel mondo nuovo tutti sono felici tutto funziona alla perfezione ma Huxley ci insegna ci fa capire attraverso il racconto di questa sera che non è per niente così comunque è un libro che ha dato veramente origine al genere distopico se non l'avete mai letto leggetevelo ma siate pronti perché dopo aver letto questo libro non penso che sarete più gli stessi di prima e infine abbiamo una domanda bonus il tuo cartone preferito e il libro che stai leggendo per quanto riguarda il cartone preferito non è assolutamente facile scegliere dato che uno ho visto tanti cartoni e non sono bravo a scegliere il preferito in assoluto se volete mandarmi in crisi è proprio la domanda giusta da fare però per questa volta mi sento di dire che uno dei cartoni più belli che abbia mai visto è Enrique Morty quindi questo scienziato pazzo che vive in un mondo dove ci sono universi paralleli alieni qualsiasi creatura qualsiasi mondo possiate immaginare lì c'è che nasconde anche però una filosofia molto interessante una visione del mondo non indifferente le puntate sono scritte bene i caratteri i personaggi sono ben caratterizzati se non l'avete mai visto vi consiglio vivamente di recuperarlo perché è veramente un capolavoro per quanto riguarda invece il libro che sto leggendo l'ho finito da pochissimo e sto parlando di Le voci di Marrakesh di Elias Canetti probabilmente non è il suo libro più famoso questo l'ha scritto mentre si è preso una pausa da Massa e Potere che è considerato il suo capolavoro insieme alla lingua salvata però l'ho visto a una bancarella a poco prezzo e non ho potuto non prenderlo arriverà sicuramente un video in cui ne parlerò più avanti comunque posso già anticiparvi che mi è piaciuto e che non vedo l'ora di leggere i suoi capolavori perché già con questo libricino Canetti è riuscito a conquistarmi per la sua capacità di narrazione e niente passerei ai saluti finali quindi grazie a Daniela di Goccia di Libri per avermi taggato vi lascerò comunque tutte le informazioni in descrizione e le domande nel caso voi vogliate replicare questo book tag grazie a voi per aver guardato il video vi ricordo che nel caso non lo aveste ancora fatto potete iscrivervi qui sotto lasciare un commento mettere un mi piace condividere il video farlo vedere ai vostri amici ai vostri parenti ai vostri conoscenti fermare i passanti per strada con il mio video youtube chiedendogli di iscriversi al mio canale ovviamente sto scherzando ma come sempre un piccolo gesto da parte vostra è un grande passo non per l'umanità ma per il mio canale io vi ringrazio ancora per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.